Sarà una festa di lavoro all'insegna della preoccupazione, quella che si apprestano a celebrare i sardi, di visita alla auspicata ripartenza dopo due anni di pandemia e le nubi che si addensano sul futuro a causa della guerra in Ucraina. Il Presidente della Regione, Cristian Solinas, ha inviato un messaggio ai cittadini in occasione di questa importante ricorrenza. Il 1 maggio si è aperto in motivo di riflessione e occasione per tenere a mente i principi fondanti scritti nella Costituzione ed evidenziare il valore del lavoro e il diritto per ogni cittadino di svolgere un'attività in libertà, dignità e soprattutto in sicurezza. Il mio pensiero va in particolare a chi il lavoro non lo ha o lo ha perso. Rivolgo un pensiero a tutti coloro che oggi attendono di trovare un'occupazione, rinnovando l'impegno mio e della Giunta per continuare a trovare ogni soluzione utile affinché venga garantito il diritto al lavoro e pari opportunità lavorative, scrive il Presidente. Il costo umano della mancanza di sicurezza sui posti di lavoro è enorme e ci pone davanti all'urgenza di agire uniti con determinazione, fermezza e volontà per evitare che tragedie come quelle dei giorni scorsi possano ripetersi. Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'assessora del lavoro Alessandra Zedda che ha evidenziato la rilevanza dei progetti e delle politiche attive che su questo fronte sono state messe in campo dalla Regione per promuovere e affermare una cultura del lavoro legale equa ed inclusiva per tutte le cittadine e i cittadini sardi. Il Ministero del Lavoro ha appena finanziato alla Regione un progetto da un milione di euro che partirà a settembre della durata di 24 mesi che riguarda tutti i settori economici teso al contrasto verso ogni forma di sfruttamento lavorativo ha concluso l'esponente della Giunta Solinas. Grazie. Grazie.